Ci troviamo al Convento dei Minimi di Rocella Ionica dove è in corso una mostra, una mostra dedicata ai Principi Carafa, una mostra iconografica organizzata da Rocella Comera. Lo chiediamo al Presidente, il Professor Giuseppe Guarnieri. Allora, l'idea di fare questa mostra iconografica dedicata ai Principi Carafa non è casuale il contesto del corteo storico, vero? Assolutamente no, questo è il frutto degli studi e delle ricerche che abbiamo fatto, quindi gli approfondimenti sulla storia dei Carafa, di questa nobile famiglia che ha regnato nel nostro territorio. Allora, vogliamo dire che i Principi Carafa, intanto partiamo dall'estensione dello Stato feudale dei Carafa, che è il Carafa della Spina, è bene precisarlo. Allora, qui abbiamo delle tavole che descrivono i vari periodi con l'estensione del feudo, vero? Sì, il primo nucleo, diciamo, dello Stato feudale dei Carafa risale al 1479, quando è stato, diciamo così, infeudato il marchese Jacopo Carafa. Dato che aveva aiutato il re Ferrante II in Spagna, ha ricevuto da questo re il feudo di Roccella e di Castelvetere, odierna caolonia. E allora, qui abbiamo altre quattro tavole, partiamo dal monumento funerario di Jacopo Carafa, in alto a sinistra, lo vedete? Sì, questo è il mausoleo che il figlio di Jacopo Carafa dedicò al proprio padre, che si trova tuttora conservato nella chiesa matrice di Caolonia. Questi ritratti sono praticamente abbinati a due a due, mi pare, padre e figlio? Sì, padre e figlio, in questa successione. Quindi il primo chi è? Nel 1489? 79 e Jacopo Carafa, quello di cui ho parlato precedentemente. No, è stato infeudato dal re Ferrante II di Spagna. Poi il figlio, Vincenzo. Che era conte di grotteria. Conte di grotteria, sì. Ancora non abbiamo i principi, i principi verranno successivamente. Avanti, Giovanni Battista, Marchese. Giovanni Battista, Marchese di Castelvetere. Questo si ricorda, non ha avuto una buona fama, diciamo. Perché? Perché praticamente si comportava male nei confronti dei sudditi. Si rivessava. È stato anche poi accusato di aver commesso degli stupri. Quindi venne arrestato, processato a Napoli e condannato alla decapitazione. Poi arriviamo a Carlo Maria Carafa, che è il principe a cui sarà dedicato il corteo di Domenica. Questo ha avuto una personalità polietrica. Fu letterato, teologo, matematico, astronomo, architetto, urbanista e giurista anche. Insomma, persona di grande cultura. Di grande cultura, veramente. Peccato che è vissuto poco. È vissuto poco, 44 anni. Giovanissimo. Sì, molto giovane. E di lui si ricorda la famosa Chinea, di cui si è parlata, mi pare. Anche se fu principe a 20 anni, giovanissimo. Sì, giovanissimo. Quindi 25 anni quasi di principale. Fu aiutato nella sua carriera, diciamo, dallo zio Gregorio Carafa, il gran maestro dell'ordine gerosolomitano di Malta. Bene, professore, abbiamo concluso. Noi la ringraziamo. Professore Giuseppe Guarnieri, che è presidente di Roccella Comera, associazione che insieme al Comune di Roccella Ionica organizza una serie di eventi, compreso il corteo storico dei Carafa, ma in questo caso una mostra straordinaria che ogni giorno, fino a quando è aperta fino al lunedì 18, io invito soprattutto i roccellesi di venire qui a visitare questa mostra e imparare finalmente a conoscere chi era una parte della nostra storia, chi erano questi Carafa, questi signori che hanno avuto tanta parte nella nostra storia. Ecco.